andiamo con la metà storia eravamo rimasti che abbiamo fatto bloody shadow e judgment quindi ora andiamo avanti e facciamo eye goal che se non ricordo male è quella che non sa neanche parlare potete parlare male quindi siamo intorno con la serata mi dovrò tempo come cazzo si gioca che sono mesi che non lo tocco questo qua è un gioco di wrestling con la figa per ps2 fatto da konami col doppiaggio pessimo in nome del grande padre che hai fatto alla bocca che parli male mazzino mangiato male lo stomaco sono su buio penso non lo so cose cioccolata non so ho esagerato con delle cose perché la cioccolata mangiare la volta e col cavallo cavallo bruttissimo dell'altro bisogna infiammato ma quindi stai parlando male di una ragazza adesso signora razzista assolutamente no e per non sa parlare e geldo peggio fa schifo di sto gioco sicuramente ma sicuramente kojima non ha non è non è nei titoli di coda non è nello staff segnato ma secondo me siccome lavoravo a konami ci ha visto questo gioco e qualche mi sei intrippato sicuramente lo peggio fa che dobbiamo sopportarlo ma come parlo io non c'è di meglio della mia voce vuoi doppiarmi oddio partiamo già con lei però questo era per fare sta cosa per fare il cantano com'è che si faceva tipo il counter era tipo non mi ricordo ok così erano le prese stozziamo c'è god o kani cosa del genere no non c'è e le bretelle cica pezzoli si assolutamente tanta arte konami insieme ai punters e fai no damage ma non so fare no damage wow vediamo qual è la sua mossa alza diretti io faccio la mossa finale avendo a ceffoni che è bruttissima è la più brutta non sa mossa finale ho visto questo gioco ma poi cos'è che colpiva i capezzoli grande great father a spalle mi piace pensare ai capezzoli che ci stai facendo qui grande padre occhi di lupo peri a occhi di lupo perito nel collo adesso un mattimento in bichini oddio non è proprio un bimbo che c'è lei c'è era una scena per dire che lecce le dette più grandi ed è più figa lei oh mio dio mi dispiace più e più e più formata lei che vuoi c'erano anche le umiliation move ok questo è un'umiliation perché poi si faceva la super mega figata se avevi umiliato completamente l'avversario non mi ricordo come si faceva però con le due mi pare quando era completamente umiliato che il counter forse r1 r1 più counter più cosa mi ricordo wow e facciamo mettere i fanghi in bichini copre tutto ma effettivamente non lo so neanche io perché proprio il fango qua cioè ma ci sono d'accordo non trovo neanche io in tutto il senso cioè se puoi poter far sta roba perché l'ho fango oh 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 mia è bellissima questa è mi piaciuta questa è bellissima bellissima si sta addormentata dai abbiamo vinto wow bello sto c'è fuori è bellissima in giro l'uomo con la maschera e la mano a calzino odio non lo conosco pigliato adegu e poi io odio bellissima lei dato sta sta morendo soffocato sotto il fango ha vinto quella meno formosa ma perché vuole delle forme più grandi si vergogna che c'è più piccole le tette ma ora c'è la cowgirl e cosa ma mi sarebbe aspettato fosse stata così diretta ma cosa c'è cazzo ma ho senso restare fatto ma seriamente perché non ho ancora ma anche io non ho aspettato che avrebbe detto una cosa del genere ma poi deve che pare tipo una santa redina stupida ok ho capito il counter bene è allucinante error no plot venga più o meno il plot è questo però che lo dica direttamente lei è stranissime cioè è proprio invidiosa delle tette alle altre troppo po' disfacente sta mossa eh troppo po' disfacente e lo frega bene bam comunque è bruttissima sta mossa è tremenda proprio brutta ma adesso in genere di campagna perché tutte le tette più grande 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 padre vuole così io picchio tette più grandi così grande padre magari mi aumenta le tette chi sa magari questo è il plot di lei ti dà una casa hai visto vedere le donne a terra? no è che devo fare danno non mi soddisfa becchiare le donne no 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 io mi dissocio oddio minchia vabbè fregata devo sformare sta mossa perché fa fare tanti codicini ma fa schifo questa mi piace ho Ups Fiavra questa mostra Quanto l'ho sollevata? E' ovviamente un po' non fare quella mostra Oh! Ha fatto il count! Oh my god Come mi solleva incredibilmente You're joking? Ups 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 Mi sento eh Sto prendo di nuovo E' troppo brutta questa mostra non farei male Procini cuoricini che non ricordo Praticamente se riesce a aumentare tutta la barra dei cuoricini Che non la vedete benissimo dell'avversario in questo momento perché ce l'ho in mezzo io Praticamente si Mi è fregato Ehm L'avversario si come si dice Non viene il termine Non viene il termine in questo momento Rimaniamo in imbarazzo? No Rimaniamo in imbarazzo? E tu potevi fargli una mossa Ehm Imbarazzante Sostanzialmente Una nota del genere Minchia Ti imbaratta? Sì L'altro che non fa tutta la barra sì E devi fare una mossa speciale Unica perché imbarazzata Lei vince Ma questa qua è quella a pingio No questa qua Guarda che i soliti tre lì sopra Mi rimbarzo con le tette a casa Vieni dopo reaction a mossa speciale Secondo quale resto logico Sc province Aigle Mi hai finalizzato Mi aspett Ambivali Ma comprende Ma guarda Mi è PMI Mi passa contagi ma perchè non ce l'ha con Makoto perchè Makoto non ha le tette più grandi delle sue è terribile è potutamente terribile ma c'è una tette più grossa che la sua testa questa l'uccide i miei ammi di cucina sono praticamente retro vuoi che porti Cookie Mama? minchia è ripostata minchia ci proviamo per i cuori non sarà facile col trucco semi-counter ti do qua giustamente parla una mossa del genere oh mio dio no iniziano venendo allora lo cipo è più alto non c'è affatto è pure io wow what the fuck no non ce la faccio mi planta la tempo quando faccio sta cosa sta facendo i cuoricini lei e le ceffoni dai oggi l'ho fatta questa è nuova ok però questo fa è un po' vicino il mono come sta perso ma che cazzo non c'è è una cosa che c'è che cazzo non c'è non c'è wow Oh, ma pure questo fa? Oh mio dio Troppo bello tu, cosa fai? Troppo bello Oh mio dio Oh, sono quasi andato allo shame Oh cazzo Mi abbraccia Dai, cuore pieno, cuore pieno Voglio fare la mossa speciale Vedi, si imbarazza Alza direttivo, fare la mossa speciale, vai RL2 mi sembra Andiamo, humiliation move Beh, effettivamente una cosa un po' strana Ma per favore dei maschietti Ma beh, giustamente dici che non l'antengono semplice perché? Tanto nessuno gioiava questo gioco per la termine di Agui Beh, crediamo niente Il gameplay però ci sta I'm very strong Very strong C'è Contra, le ho avuto un Contra che non conosco Sì, ma sembra che non sono ancora un match per te Makoto Keep it up, Aigo Now the judo, babe Impressive We've got a dark horse on our hands Yes, I have horse Hard worker and obedient Huh? Oh, never mind And Your body's mine This time Ah, il corpo è suo? Adesso dei personaggi del termine di personalità penso che vuol dire il Siri Che imbarazzo, mamma mia, che imbarazzo, mamma mia Devo immagino che sia il... Come si c'è? Come si chiama? Il boss finale è il boss finale Oh mio dio Incazzatizia Il boss finale è di una rottura ogni volta Oh, mollami Ma di vendarci al phone Minchia 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 come ho evitato, appunto sotto bene Beh, ero lì thirty all'attività che finora era secondo me una situazione più profonda È la cattiva Perchè non allo sopra è la cattiva Fa le cose brutte oh mio dio sta facendo il cuore assi ok e quanto il cuore mi sa lamentato sta facendo il cuore dovevo mancare un sacco devo rimontare così non riesco a farla scendere così ma che po-cosa cos'è minchia remissirio spostati non riesco a farla scendere più impegnata tutto torno certo certo guarda anche delle mosse molto più impegnate lei non c'è così per essere tutte le chilometri pensa mi sta per fare a mera la mozza super mega finale che è scendere tra un po' mi passa l'imbarazzo guarda no star da no star da però è fatto di te qui è pure la torre che siccome mi pare mi lascia il move ok è una pulata ovviamente ok sono tornato normale non basta non basta ti pare ok 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 tra un po' c'è tra un po' c'è sì diverte pure a fare queste cose dai 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 che ho vinto dai che c'è dai nooo se ne ha niente c'è di che c'ho rischiato adesso c'è bosfiro che ha due fas spero abbia solo una fase spero sia già super po' ma se non sbaglio la sua doppia dice non è un'opera che era tipo la cantante di qualche altro brano di non usare sempre il metal gear quello di far quell'occhio di leone è troppo forte troppo forte adesso tipo manipola l'amica vuoi vedere sì infatti era manipolata ora è è quella è la versione cattiva la stava si impittisce asset lo so che ne pensi grande scrittura makoto makoto koto e aigle sono amici no no oh oh che triste dai cazzo bisogna questo gioco Rumble Roses per c'è scritto pure nel titolo della live per PS2 c'è anche uno per 360 però non ho detto che è peggio non che io avessi giocato questo evento ho giocato buono ogni tempo mi sembra mi ha fatto lei il doppiaggio chi era però chiamato la scorsa volta mi ha abbracciato ah fatti con la pezza di orso di 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 kuma di tecchia di 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 no 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 Ahia. no ma ma che cazzo mi sei seduto sopra di bene mi diventa a geffoni come si cazzo ah no che stavo vedendo che c'è ragione che era donna come si chiamava dottor cutter donna burke donna burke la mirror davo giusto ne avevo parlato infatti pensa te pensa te e carriera dov'è passata rambo rosis cos'è finisce il giugino ma non lo conosco il giugino oh mio dio oh porca soia oh questo vuoi fare migliori cose fighe con la frog splash mangiare di pass ass non ce la facciamo lo credo anche Angela lo credo anche Angela era lei che aveva lo che vange wow che bello sapere questa cosa la fai fare una cosa? magari ti umili non guardatemi prima vogliate guardarmi non guardatemi hai visto solo che c'è il cerotto nel ginocchio ma per te aspetta inverno vai vengono a quello che sembrava no non mi ricordo il tizio del casino non è il contesto cioè il video è così di riferisci ma non l'ho mai vista sta cosa si è svegliato big trouble l'arriva Lady X gli schiaffi sulle spalle lo faceva pure una della tabella non ho molte conoscenze la vediamo però solo per un certo periodo avrei il periodo di Danny Seale di Guerrero più Svenoire più Rage plus Lesnar cazzo sono tanti c'è Undertaker Big Show però insomma se c'era Eddie Guerrero avete più o meno capito il periodo perché poi davanti è morto vorrebbero mai non so gli altri onestamente ma è un bass quindi devo fare tutte e due le fasi per sta stronza minchia ma io ti ricepponi mi manca male ops si abbassa sempre la serie a cazzo qui vediamoci se non so abbassa wow regalo non è l'inizio di X beh era qualche anno prima di quello ah ok no forse non lo ho visto mi ricordo anche c'era Randy Orton che atti c'erano vabbè c'erano un sacco i miei preferiti erano Eddie Guerrero Rey Mysterio e Undertaker anche Big Show mi stava compatico con quel bel fanzone ah si abbracci come Puma purtroppo mi sa che dovremmo affrontare un'altra volta lei in versione più rompi palle però sono le sole lunghe queste qua no 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 non lo abbatto sicuramente vediamoci ops oh mio Dio il bel è che va completamente a caso quando deve cadere la sedia completamente a caso l'esame di compro anche se prima la smonto completamente vedi vedi XX anche questi tre che sono più lunghi oh mamma mia oh mamma mia vai oh acciatolo finalmente eh si guarda 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 mossa che in realtà lei è un mega cyborg incredibile pazzesco che non si era mai visto prima va bene va bene va bene va bene va bene no 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 perché il vestito da ufficio si ora mi shot a caso ora devo cedare e basta ora ti prego collabora cazzo ah comunque si chiama LadyX Substance è la chi che hanno preso il gioco il nome per l'espansione di Melegge e Sordi comunque per evitare di crepare devo tenerla qua giù e menarla qua giù almeno non mi può battere mentre teno qua giù è un po' morto che fa ambigia adesso pensavo che la Tizia nel rosso fosse la rosa più Capone no credo ci si è ancora di più di Capone di Capone no forse forse più direi no forse più direi no è difficile di superare sta roba cyborg del cazzo mio Dio dobbiamo ammazzicare un bel po' ma torniamo un po' giù no se mi aspetta Dio è un problema oh mio Dio oh mio Dio dobbiamo ammazzare un po' giù e dovete dire Dio la Dio è un po' di PS2 eh no che poi mi pare di godere proprio che uno lo giocava anche perché lei mi diceva di tipo chissà perché hanno fatto solo questo se un'auto del 360 del monta lì chissà perché però perché del 360 non lo so cioè si è spinto a passare all'Xbox dopo la PlayStation 2 è vero non ho già l'azione ci può stare un po' una cosa random porca troia no non ce la faccio a fare i treze però no mamma mamma facendo il culo oh la 360 è riuscita quando ancora era non era ancora riuscita la PlayStation 3 sì la PlayStation 3 è riuscita un anno dopo la 360 o due anni dopo mi ricordo ma forse due anni dopo no un anno dopo sicuramente scendi su e poi comunque continuiamo a fare giochi perché ci sono due a voglia no non riesco a prenderlo intendo anche quando è riuscita la PlayStation 3 al di là dei FIFA mi pare che ad esempio World of War 2 si su PlayStation 2 nel 2008 quando è ancora già la PlayStation 3 oh my god non c'è se c'è ancora la PlayStation sto scordino ma niente anzi nel 360 che sei nel 2006 pensa nel 2007 è ancora prima è una differenza esatta è stata è stata ma al tempo la oh my god la Microsoft dovrebbe voler di fare ottima idea per la 360 poi hanno mollato una cosa negli ultimi anni di vedere la console lasciandola morire purtroppo è la bestia che si è ripresa tantissimo che era partita proprio da un punto di vista svantaggiatissimo vabbè poi non so quando ero tutta puttana con la One però è un altro discorso così la 360 era tantissima roba per l'errore del 2005 quindi la PS3 si è fatta se non sbaglio la PS4 è uscita nel 2013 giusto? alla fine del 2010 la PS4 dico molto lungo con Gerson ti prego vuoi che pare ti ha rotto il cazzo oh mio dio oh cazzo questa mi sciotta no questa mi ammazza Alba ti prego o meglio o meglio io perdo oh quella puttana Pigeone 2 3 eh mucca sacca di redspin quindi si è stata una delle agenzioni più lunghe forse agenzioni più lunghe quella che è 60 oh mio dio devi collaborare per la mia però eh per questo che devo stare giù perché sto su sono nella merda dai c'è in giù scendi giù c'è questa stanza non può stare a tutti in giù c'è la devo massacare giù e poi forzare le sole e batterle questa è quella bonanza è una cosa che non è andata Oh, cazzo. Oh, non riesco ad alzarmi. Oh, cazzo. 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 Oh, cazzo.